Ti porto a Cuba fra qualche giorno. Beh, per quanto tempo non lo so, devo quantificare. Te lo faccio sapere non appena incontro il pollo. Ero lavoro, vai. A proposito. Dice vado, dottor? No, il pollo. Il pollo, non arrivo, ho ordinato il pollo. Ti chiamo dopo, ciao. Dottor, ecco il pollo. Grazie. Buon appetito. Grazie. Vuole favorire? No, 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 grazie. Già ho mangiato, già ho mangiato. Mangiato? Sì, 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 dottor. Già ho mangiato. Ah, dottor, io vi volevo dire una cosa. Io purtroppo preferisco lavorare nella mia agenzia di fianci. Con il cinema è un investimento che non posso sostenere. Ma, sei il mio main sponsor. Ma che stai dicendo? Proprio adesso te ne vuoi andare. Sì, sì. Nel più più bello. Nel momento migliore. Perché? Perché mi ha chiamato, non te lo dovrei dire, mi ha chiamato Cecchicori. Cecchicori? Cecchicori, no Pinco Pallino. Cecchicori! Sai cosa mi ha detto? Chi ha detto? Ma dove l'hai trovato questo? Con l'aria incuriosita, eh? Sì, sì, ma dottor, basta. Io preferisco lavorare nella mia agenzia di viaggi perché già mi avete fatto investire 30.000 euro in un film che non è mai uscito, dottor. Lo so io perché. La marcia dei pinguini due. L'abbiamo fatto uscire in un momento sbagliato. Cinema era in crisi, la gente al cinema non c'è n'altro. Dottor, lo abbiamo girato a Charmachini. A massimo si poteva chiamare la marcia dei cammelli. Sì, ma perché sei così ingrato, vuoi farlo dire? No, no, no. Perché sei così ingrato? Io l'ho consegnato a chi sto... Sicuro non puoi mangiare? No, no, no. E ti sto ancora consegnando. Consegnando. Alla storia del cinema impegnato, certo. Ma impegnato, infatti, già mi sono impegnato troppo. Tanto ho un braccialetto collano, non tengo più niente. E poi preferisco lavorare nella mia agenzia di viaggi, basta. Viaggi hai detto? Sì. Bene, faremo un bel viaggio. Viaggi. In Normandia. Andiamo a girare lo sbarco in Normandia 2. E che andiamo in Francia? No, a Cuba. Io sempre li vedo questi urbani tutti schierati. E su, a spiaggia, tutti travolti da questo destino. Infatti arrivano alleati e li ammassano, li pieno a carci. Ah, dottor. E vengono i prigionieri. E' una bomba. E i tedeschi a Cuba. E poi i tedeschi sono bionti. Ah, ma sapete proprio che i tedeschi non capisci niente? Non mastichi nulla. E' sì buono, no. E' effetti speciali, il trucco. L'acqua ossigenata. E ce la metti? Dottor, no. Comunque Cuba no. Non è così Cuba. No, no. Lasciami stare. I cubani sono bianchi. Mi devo sentirli. Del resto, non sai. Per cui è giusto così. Facciamo una cosa. Lo giriamo, lo giriamo a Rimini. E' pieno ai tedeschi. Certo, è pieno ai tedeschi. Così, ah. No, 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 dottor. Nemmeno Rimini. Togliamo Rimini. Dammi al trucco. No, no, no. Ma non se ne parla proprio. Dottor, già vi ho detto. Mi fai lavorare nella mia agenzia di viaggi. Basta con il cinema. Ho chiuso pure perché già so senza soldi. Mi sono fatto pure due calcoli. E non è cosa. Bello. Dammi un bacino. Che idea che mi hai dato. I calcoli. Eh. Non giriamo a Chianciano. A Chianciano? Anzi no. A Montecatini. No, no, no. Niente a Montecatini. No, niente a Montecatini. A Fiuci. No, no. Niente a Montecatini. Niente a Montecatini. Fammi miarvi. Dottor, io già non c'ho più niente. Ma non è niente a Montecatini. Niente a Fiuci. Niente. No, basta dottor. Veramente lo voglio fare. Sai come un titolo, amore? Come un titolo? Mi sono magnato e lo fegato. E' una semicommedia. No, no. Semicommedia. Ma a me lo fegato non mi piace nemmeno. A Fiuci. No, no. Non c'è la fegata. Non mangiò l'arte. Che toglie di magnatini. No, no. Ma per favore. E ma allora guarda la voce. Va beh, va. Ne trovo un altro. Vieni, vuoi il pollo, vieni. No, no, basta. Dottor, basta. Basta. Dottor, no, veramente. Vuoi il pollo, no. E' tutto pagato. Ah, è pagato. Da te, sì. Buono. Mamma mia, stai per a stamattina vicino a stupulli. Tengo.